Ok, ho dimenticato il titolo. Allora, partiamo subito. Sono di nuovo qui per raccontarvi una favoletta. Voi siete pronti? Questa qua è bellissima, vi divertirà un sacco perché è veramente simpatica. Quindi, se siete pronti, partirei con la sigla. Allora, avete mai sentito nominare la savola dei vestiti nuovi dell'imperatore? No? Partiamo! C'era una volta un imperatore che amava così tanto la moda da spendere tutto il suo denaro soltanto per vestirsi con eleganza. Non aveva nessuna cura per i suoi soldati, né per il teatro o per le passeggiate nei boschi, a meno che non si trattasse di sfoggiare i suoi vestiti nuovi. Possedeva un vestito per ogni ora del giorno e mentre di solito di un re si dice è nella sala del consiglio, di lui si diceva soltanto è nel vestibolo. Nella grande città che era la capitale del suo regno c'era sempre da divertirsi. Ogni giorno arrivavano forestieri e una volta vennero anche due truffatori. Essi dicevano di essere due tessitori e di saper tessere la stoffa più incredibile mai vista. Non solo i disegni e i colori erano meravigliosi, ma gli abiti prodotti con quella stoffa avevano un curioso potere. Essi diventavano invisibili agli occhi degli uomini che non erano all'altezza della loro carica o che erano semplicemente molto stupidi. Quelli sì che sarebbero degli abiti meravigliosi, pensò l'imperatore, pensò l'imperatore. Con quell'indosso potrei riconoscere gli incapaci che lavorano nel mio impero e saprei distinguere gli stupidi dagli intelligenti. Devo avere subito quella stoffa. E pagò i due truffatori affinché si mettessero al lavoro. Quei due montarono due telai. Finzero di cominciare il loro lavoro, ma non avevano nessuna stoffa da tessere. Chiesero senza tanti complimenti la seta più bella e l'oro più brillante. Se li misero in borsa e continuarono così, coi telai vuoti, fino a tarda notte. Mi piacerebbe sapere a che punto stanno con la stoffa, pensava intanto l'imperatore. Ma a dire il vero si sentiva un po' nervoso al pensiero che una persona stupida o un incompetente non avrebbe potuto vedere l'abito. Non che lui temesse per sé figurarsi. Tuttavia volle mandare qualcun altro a vedere come procedevano i lavori. Nel frattempo tutti gli abitanti della città avevano saputo delle incredibili virtù di quella stoffa e non vedevano l'ora di vedere quanto stupido e incompetente fosse il proprio vicino. Manderò dei tessitori il mio vecchio e fidato ministro, decise l'imperatore. Nessuno meglio di lui potrà vedere chi aspetto ha quella stoffa perché è intelligente e nessuno più di lui all'altezza del proprio compito. Così quel vecchio e fidato ministro si recò nella stanza dove i due tessitori stavano tessendo sui telai vuoti. Santo cielo, pensò spalancando gli occhi, non vedo assolutamente niente. Ma non lo dissi a voce alta. I due tessitori gli chiesero di avvicinarsi e gli domandarono se il disegno e i colori erano di suo gradimento, sempre indicando il telaio vuoto. Il povero ministro continuava a fare tanto d'occhi ma senza riuscire a vedere niente, anche perché non c'era proprio niente da vedere. Povero me, pensava intanto. Ma allora sono uno stupido, non l'avrei mai detto, ma è meglio che nessuno lo sappia. O magari non sono degno della mia carica di ministro. No, in tutti i casi non posso far sapere che non riesco a vedere la stoffa. E allora cosa ne dice? chiese uno dei tessitori. Belli, bellissimi, disse il vecchio ministro guardando da dietro gli occhiali. Che disegni, che colori, mi piacciono moltissimo e lo dirò all'imperatore. Ah bene, noi siamo felici, risposero quei due. E quindi si misero a discutere sulla qualità dei colori e a spiegare le particolarità del disegno. Allora i due truffatori chiesero a questo punto ancora soldi e seta e oro, che gli sarebbe servito per la tessitura, visto che erano venuti a sapere che l'imperatore era assolutamente soddisfatto del lavoro. Ma poi infilarono tutto nella loro borsa e nel telaio e non ci misero nel telaio neanche un filo. Eppure continuavano a tessere sul telaio vuoto. Dopo un po' di tempo l'imperatore inviò un altro funzionario, anche lui assai valente, a vedere come procedevano i lavori. Ma anche lui capitò lo stesso caso del vecchio ministro. Si mise a guardare, a guardare, a guardare. Ma siccome oltre ai telai vuoti non c'era niente, non poteva vedere niente. Guardi la stoffa, non è magnifica, dicevano i due truffatori. E intanto gli spiegavano il meraviglioso disegno che non esisteva affatto. Io non sono uno stupido, pensava il valente funzionario. Forse che non sono l'altezza della mia carica. Davvero strano? Meglio che nessuno se ne accorga. E così iniziò anche lui a lodare il tessuto che non riusciva a vedere. E parlò di quanto gli piacessero quei colori, quei disegni così graziosi. Sì, davvero, è la stoffa più bella del mondo, disse poi all'imperatore. Tutti i sudditi non facevano altro che discutere di quel magnifico tessuto. Infine, anche l'imperatore voleva andare a vederlo. Ma esso era ancora sul telaio. ci crediamo? Si fece accompagnare dalla sua scorta d'onore, nella quale c'erano anche i due ministri che erano già venuti. E si recò dai due astuti imbroglioni che continuavano a tessere, a tessere, a tessere. Un filo che non c'era. Non è forse magnifico? Dicevano in coro i due funzionari. Che disegni, sua maestà! Che colori! E intanto indicavano un telaio vuoto, perché erano sicuri che gli altri ci vedessero sopra la stoffa. Ma che sta succedendo? Pensò l'imperatore. Non vedo proprio nulla. Terribile! Che io sia stupido? Oh, magari non sono degno di fare l'imperatore? Questo è il peggio che mi potesse capitare. Ma è bellissimo! Intanto diceva. Avete tutta la mia ammirazione. E a noi va soddisfatto, mentre fissava anche lui un telaio vuoto. Mica poteva dire che non vedeva niente. Tutti quelli che lo accompagnavano guardavano, guardavano, guardavano. Ma per quanto potessero guardare, la sostanza non cambiava. Eppure anche essi ripeterono le parole dell'imperatore. Bellissimo! E gli suggerirono di farsi fare un abito nuovo con quella stoffa per l'imminente parata di corte. Magnifique! Excellent! Non facevano altro che ripetere. Ed erano tutti molto felici di dire cose del genere. L'imperatore consegnò ai due imbraioni la croce di cavaliere, da tenere appeso al petto e li nominò grandi tessitori. Per tutta la notte prima della parata di corte, quei due rimasero alzati con più di sedici candeli accese, di modo che tutti potessero vedere quanto era difficile confezionare i nuovi abiti dell'imperatore. Quindi fecero finta di staccare la stoffa dal telaio e poi con due forbicioni tagliarono l'aria. Cucirono con un ago senza filo e dissero finalmente «Ecco, i vestiti sono pronti!». Venne allora l'imperatore in persona, con i suoi più illustri ministri e cavalieri e i due truffatori, tenendo il braccio alzato come per reggere qualcosa, gli dissero «Ecco qui i pantaloni! Ecco la giacchetta! Ecco la mantellina!» eccetera eccetera eccetera. «Che stoffa! È leggera come una tela di ragno! Sembra quasi di non avere indosso nulla! Ma è questo appunto il suo pregio!» «Già, già, già, già!» dissero tutti i cavalieri, anche se non vedevano niente, perché non c'era niente da vedere. «E ora,» dissero i due imbroglioni, «se sua maestà imperiale vorrà degnarsi di spogliarsi, noi lo aiuteremo a indossare questi abiti nuovi proprio qui, di fronte allo specchio!» L'imperatore si spogliò e i due truffatori fingevano di porgergli uno per uno tutti i vestiti che, a detta loro, dovevano essere completati. Quindi lo pressero per la vita e fecero finta di legargli qualcosa dietro. Era lo strascico! Ora l'imperatore si girava e si rigirava davanti allo specchio. «Come sta bene! Questi vestiti lo fanno sembrare più bello!» tutti dicevano. «Che disegno! Che colori! Che vestito incredibile!» «Stanno arrivando i portatori del baldacchino che starà sopra la testa del re durante il corteo!» disse il gran maestro del cerimoniale. «Sono pronto!» disse l'imperatore. «Sto proprio bene, non è vero?» e ancora una volta si rigirò davanti allo specchio, facendo finta di osservare il suo vestito. I ciambellani, che erano incaricati di reggergli lo strascico, finsero di raccoglierlo per terra e poi si mossero tastando l'aria. E mica potevano far capire che non vedevano niente! Così l'imperatore marciò alla testa del corteo, sotto il grande baldacchino, e la gente per la strada e alle finestre non faceva altro che dire «Dio mio! Quanto sono belli gli abiti nuovi dell'imperatore!» «Oh sì! Gli stanno proprio bene!» Nessuno voleva confessare di non vedere niente, per paura di passare per uno stupido o per un incompetente. Tra i tanti abitanti dell'imperatore, nessuno poteva negare che quegli abiti erano i più belli in assoluto. «Ma l'imperatore non ha nulla addosso!» disse a un certo punto un bambino. «Santo cielo!» disse il padre. «Questa è la voce dell'innocenza!» Così tutti si misero a sussurrare quello che aveva detto il bambino. «Non ha nulla addosso! Non ha nulla addosso! C'è un bambino che dice che non ha nulla addosso!» «Non ha proprio nulla addosso!» si misero tutti a urlare alla fine. E l'imperatore era brevidì, perché sapeva che avevano ragione. Ma intanto pensava «ormai devo condurre questa parata fino alla fine!» E così si drizzò ancora più fiero, mentre i ciambellani lo seguivano reggendo una coda che non c'era per niente. Piaciuta questa favoletta? Buffo l'imperatore, vero? Anche un po' stupido per la verità e anche tutti gli altri. Vabbè, allora adesso preparatevi per andare a fare la ninna che adesso vi canto la ninna nanna. Ninna nanna mamma, tienimi con te, nel tuo letto caldo solo per un po'. Una ninna nanna io ti canterò e se ti addormenti mi addormenterò. Ninna nanna mamma insalata non ce n'è, sette le scodelle sulla tavola del re. Ninna nanna mamma ce n'è una anche per te, dentro cosa c'è? Solo un chicco di caffè. Dormono le case, dorme la città, solo l'orologio suona e fa tic-tac. Anche la formica si riposa ormai, ma tu sei la mamma e non dormi mai. Ninna nanna mamma insalata non ce n'è, sette le scodelle sulla tavola del re. Ninna nanna mamma ce n'è una anche per te, dentro cosa c'è? Solo un chicco di caffè. Quando sarò grande comprerò per te tante cose belle come sai per me. Chiudi gli occhi e sogna quello che non hai, i tuoi sogni poi mi racconterai. Ninna nanna mamma insalata non ce n'è, sette le scodelle sulla tavola del re. Ninna nanna mamma ce n'è una anche per te, dentro cosa c'è? Solo un chicco di caffè. Ci mettiamo su tutto quello che vuoi tu. Buonanotte bambini e se vi va ci vediamo domani sera con un'altra favoletta. Ciao!